Dopo gli uffici di Belluno e Feltre, l'Agenzia per il Lavoro ad Ecco apre un nuovo sportello a Longarone. Da quasi 25 anni la società accompagna la crescita di imprese e lavoratori. La sola filiale di Belluno, presente sul territorio dal 2000, nel corso del 2023 ha avviato al lavoro oltre 370 candidati, di cui circa il 60% con contratti a tempo indeterminato, grazie alla collaborazione con oltre 40 aziende. L'area del Bellunese vanta inoltre di un tasso di disoccupazione tra i più bassi d'Italia, intorno al 3%. Le aziende oggi cercano competenze che purtroppo non sempre riescono a trovare. Quindi chiaramente il nostro obiettivo è quello di costruire insieme alle aziende le competenze che mancano, con percorsi di academy, di apprendistato individuale che vengono creati. D'altro canto i lavoratori, i candidati e soprattutto le nuove generazioni, cercano posti di lavoro con una durata contrattuale lunga, piuttosto che percorsi di carriera, sistemi di welfare, che possono in qualche modo creare un beneficio tra la vita lavorativa e la vita privata. I settori che in questo momento offriranno più opportunità di lavoro sono sicuramente il distretto dell'occhialeria, molto importante, lo conosciamo tutti all'interno della nostra economia, piuttosto che il settore orecca, quindi la ristorazione commerciale, l'hotellerie, ma anche il distretto del freddo, della refrigerazione, è un distretto importante. Non solo ricerca del lavoro, ma anche orientamento e formazione dei più giovani, partendo già dalle scuole medie, sono al centro della filosofia aziendale del gruppo ADECO. È centrale il mondo education in quello che può essere il servizio ADECO, come orientare ragazze e ragazzi, fin dalle scuole medie, fin dalle scuole superiori e all'interno anche degli ETS, a quelli che possono essere percorsi specializzati. L'importanza della chiarezza del percorso professionale per un ragazzo, per un'agenzia, è la primissima richiesta, oltre che uno stipendio. Infatti quello che cerchiamo e quello che cercano i ragazzi è una chiarezza del percorso di crescita all'interno di un'azienda. Noi cerchiamo di orientarli nel creare a 360 gradi una figura professionale specializzata pronta per le aziende del territorio, come essendo un veicolo che fa proprio questo, cioè essere un advisor e un consulente per la carriera dei ragazzi e delle ragazze. Devo dire che tutto sicuramente è utile in un contesto dove c'è bisogno di trovare, ripeto, mano d'opera qualificata in diversi settori, occhialeri in primis, ma in tanti altri, perché questa provincia ha sicuramente enormi potenzialità e tantissime possibilità di lavoro in tanti settori.